Siamo nel centro elaborazioni dati del comune di Teramo, siamo con il responsabile, il dottor Roberto Angelini. Intanto che struttura è questa, dottore? È una struttura, come puoi vedere, nuovissima, di proprietà del comune. Noi ci siamo trasferiti qui grazie a un'intuizione dell'ex sindaco Maurizio Brucchi, che a quei tempi era sempre molto sensibile a queste attività, a questa, diciamo così, alla soluzione di problematiche derivanti dal sisma, dal maltempo dell'anno scorso. Infatti, una volta che gli edifici centrali, di proprietà dell'ente, subirono danni irreversibili, la prima cosa che penso fu quella di trasferire il CED qui giù, in un immobile che tu puoi vedere, antisismico, dotato di tutti quanti i sistemi di continuità operativa, un immobile che fa anche risparmiare perché le utenze, il gas, la luce e l'acqua sono erogate secondo sistemi innovativi e quindi costano veramente poco e ci consentono di conseguenza anche di fare attività come quella delle elezioni, piuttosto che come quella dell'anno scorso, dove qui, non so se vi ricordate, c'erano almeno 450 persone, forse dell'ordine, prefettura ed altre province, cioè tutti quegli organismi addetti alla protezione del territorio, vi ricordate, perché per un mese noi abbiamo consentito, oltre che l'erogazione di tutti quanti i servizi basilari, anche la possibilità di lavorare perché era l'unico posto in cui c'era l'energia elettrica, non so se vi ricordate. E quindi noi siamo qui dall'anno scorso e confermo la scelta giusta ed oculata dell'allora sindaco Maurizio Brucchi. Poco prima delle elezioni qui si è tenuta una riunione con i presidenti di Seggio che avrebbero appunto dovuto organizzare tutte le operazioni di voto per presentare le novità relative alla nuova scheda elettorale. Di cosa avete trattato, diciamo, cosa c'è stato trattato nella riunione, quali sono stati i problemi affrontati e poi nell'espletamento delle operazioni, quali sono stati, diciamo, gli intoppi, se così li possiamo chiamare, più frequenti? Allora, l'iniziativa dei presidenti di Seggio, cioè l'invito rivolto ai presidenti di Seggio di riunirsi per un incontro, diciamo così, di collaborazione, non dico formativo, in riferimento allo svolgimento dell'intera procedura elettorale, è un'iniziativa che il Comune ha ripreso ma io, siccome ormai sono veramente anni che faccio questo tipo di lavoro, si faceva già prima. Adesso l'abbiamo un attimino riesumata perché con la nuova normativa c'erano delle situazioni nuove che i presidenti dovevano affrontare e quindi abbiamo cercato di evitare degli intoppi presso i seggi, che so il bollino da porre sulle schede e quindi questo aspetto che poteva creare, soprattutto in fase di costituzione del Seggio, quell'attività di conseguenza che si svolge dalle 16 del sabato in poi, un'attività quindi che poteva rallentare l'attività di costituzione del Seggio oppure anche il giorno dopo, il giorno della domenica, dove la particolare operazione che bisognava fare sul bollino poteva rappresentare un rallentamento delle attività. Il bollino e il tagliando antifrode? Per bollino intendo il tagliando antifrode perché il tagliando antifrode si trasforma in un bollino che il presidente doveva apporre sulla scheda e gestire in un certo modo. E l'incontro è dato a buon fine perché tutti quei ritardi che io ho letto anche sui giornali riferiti a dei seggi in tutta Italia, da noi non ci sono stati. Quindi lo spoglio qui nelle nottante sezioni è stato tranquillo? Sì, sia il voto, quindi sia la giornata di domenica, dalle ore 7 fino alle ore 23, si è svolto in maniera molto ma molto regolare. Ma d'altronde i presidenti, oramai ci conosciamo, sono tutte quante persone esperte, ognuno ha la sua tecnica, ognuno sa come fare e quindi oltre ad essere perfettamente autonomi sanno che ci sono degli uffici di supporto, quindi per qualunque problematica telefono e chiamano. Ma soprattutto dalle 23 in poi le attività di spoglio sono andate benissimo. Avevamo un po' tutti delle paure perché le nuove tecniche di indicazione del voto sia sulla documentazione in possesso dei presidenti, in riferimento allo spoglio, ma anche sui prospetti riprogativi era diversa rispetto agli altri anni. C'erano delle tabelle, dei valori che si incrociavano e quindi potevano rappresentare dei problemi in caso di interpretazione errate. In realtà nulla è andato storto, tutto è andato bene, a riprova del fatto che gli uffici, i presidenti in particolar modo, sono persone esperte che sanno affrontare le problematiche e se c'è qualche problema interviamo noi a supporto. Ma soprattutto gli uffici hanno fornito l'apporto, diciamo così, che oramai sono 30 anni da che faccio questo lavoro, l'apporto che hanno sempre fornito e quindi tutto è andato a buon fine. Come mai? Ci sono state in altre parti d'Italia situazioni al limite del paradosso dove non si riusciva a trovare una situazione di soluzione per la questione dei bollini, non si sapeva neanche cosa dover fare. Non ti so dire, non so per quale motivo in Italia oppure in alcuni posti, però in realtà non mi sembra che siano successi grandi problemi dal mio punto di vista, cioè leggendo i principali giornali piuttosto che ascoltando i principali notiziari. Sono, immagino che, ormai sono procedure che consolidate, sono sempre quelle da tempo immemore. Un piccolo cambiamento, se non lo sai affrontare, potrebbe pure generare dei ritardi. Poi tutto lì dipende pure dall'approccio del Presidente al nuovo problema, ma sostanzialmente non mi è sembrato che ci siano stati dei problemi insormontabili che hanno potuto in certo modo ledere anche l'attività del voto. Non mi è sembrato assolutamente. Sull'espletamento, anzi sul termine delle operazioni di voto e dell'ottenimento dei dati, il CED a che ora ha completato tutto quanto rispetto alle altre dati? L'attività di raccolta dei dati e di coordinamento di tutte le sezioni inizia il sabato alle 16 e finisce quando chiude l'ultimo seggio. I dati quindi vengono recuperati direttamente dalle colleghe che sono il riferimento dei Presidenti e poi vengono portati qui ed elaborati con i software che predispone il CED, che predispone il mio collega. Sono lavori, ti ripeto, ho già detto prima che sono anni che faccio questo tipo di lavoro, sono veramente lavori che sono di altissimo livello, che tu sul mercato non trovi. Sono lavori talmente precisi e dati in tempo reale, grazie anche alla collaborazione del nostro addetto stampa, Nicola Di Palantonio, che è veramente molto in gambe in tal senso. Sono dati che quando noi chiudiamo i seggi, nonostante i collegamenti che abbiamo con la Prefettura, quest'ultima non sa, arriva sempre un paio di ore dopo. Per esempio, abbiamo chiuso l'ultima sezione alle ore 8. Alle ore 8 noi abbiamo comunicato alla Prefettura con i loro sistemi informatici la chiusura, ma alle 10 e mezza, 11, ancora non sapevano se il Comunità aveva chiuso o meno. Quindi questo perché avviene? Avviene perché riusciamo a portare avanti un servizio tra mille difficoltà, un servizio che è veramente all'avanguardia e questo l'abbiamo fatto da sempre. Noi in occasione di quelle che sono le amministrative cerchiamo di diffondere il dato anche tramite le maxi schermi, non so se vi ricordate, è un lavoro estremamente complesso. E questo lavoro qui viene fatto veramente a costo zero dall'amministrazione perché non incarichiamo ditte, non spendiamo alcunché grazie all'apporto e alla professionità di questi colleghi che sono tutti quanti, come ti dicevo prima, certificati Microsoft, certificati Cisco, quindi in possesso di certificazioni internazionali che consentono appunto di fare questa attività. Edgardo Cugnini, sistemista, che ci farà vedere come funziona poi l'inserimento dei dati nel nuovo prospetto di allestimento di scheda elettorale. Sì, allora, in base alle nuove disposizioni, alle nuove leggi sui voti che bisogna raccogliere, praticamente al di là di quelle che sono i calcoli proprio matematici, abbiamo pensato di mettere su un sistema di raccolta dati suddiviso per, anziché fare, come possiamo dire, un blocco unico diviso sezione per sezione in modo tale che l'andamento poi finale veniva raccolto in un unico blocco. Per cui ho pensato di strutturare un sistema basato su 80 fogli di calcolo, tutti identici ovviamente, dove poi l'operatore inseriva i dati che provenivano dalle sezioni. Chiaramente un foglio di calcolo strutturato in una certa maniera che non fa solo il conteggio semplice della somma dei voti del candidato più il voto di lista, eccetera, ma verifica anche che i votanti siano corretti in base al dato pervenuto alla chiusura del seggio, che alla fine il conteggio corrisponda tra votanti e voti validi, oltre le schede nulle o bianche o non assegnate, eccetera, eccetera. Poi tutto questo veniva comunque riportato su un unico foglio finale dove progressivamente si incrementavano questi dati fino ad ottenere il valore definitivo delle sezioni che sono assegnate al Comune di Termo, cioè le 80, quindi 80 su 80. E questo dato poi dava il risultato definitivo, sempre con, diciamo, non definitivo nel senso che è valido a tutti gli effetti perché poi dovrà essere ricontrollato dalle apposite commissioni elettorali, eccetera. Comunque il dato che noi poi trasmettiamo contestualmente alla Prefettura che con il nuovo sistema di voti, di calcolo dei voti, lo inserisce in quel nuovo sistema che si chiama Eligendo, qualcosa del genere. Eligendo, sì, Eligendo. Che problemi ci sono stati, se ce ne sono stati? Assolutamente nessun problema. La procedura ha funzionato perfettamente, non ha riportato nessuna anomalia. C'è stato qualche problema magari di ricevimento dati dalle sezioni che avevano alcune piccole imperfezioni per quanto riguarda il conteggio di alcuni valori, tipo mancava un votante piuttosto che una scheda, eccetera. Però poi non erano problemi legati alla nostra attività quanto all'attività del seggio che poi alla fine riconteggiando tutto hanno comunque riportato i valori esatti. Quindi un flusso di comunicazione costante ha consentito anche di accelerare sicuramente l'inserimento dei dati e arrivare a una definizione del dato percentuale finale in tempi anche più stretti. Sì, il fatto che i nostri tempi sono collegati assolutamente a quanto accade al seggio. Se il Presidente trasmette il dato nella prima ora dopo la chiusura noi lo inseriamo nella prima ora. se trasmette il giorno dopo alle 8 di mattina come è successo per l'ultima sezione pervenuta noi a quel momento dobbiamo caricare il dato e comunicarlo poi alla Prefettura. Allora questo è il riepilogo definitivo dei dati che sono pervenuti dalle sezioni ricalcolate in base a tutti i valori di ogni singola sezione. per cui il riepilogo delle sezioni scrutinate sono 80 su 80. in partenza al Comune di Teramo per la Camera dei Deputati l'ufficio elettorale ci ha indicato i valori degli iscritti che sono 42.362 divisi in maschi e femmine. e dai seggi sono pervenuti indicazioni per cui abbiamo riscontrato che hanno votato 32.982 persone maschi e femmine indicati per un totale di percentuale del 77,86% che comunque è in linea con il dato nazionale. nella parte di sotto si prevede invece l'andamento di quello che è stato lo spoglio relativamente ai dati ai voti assegnati ai candidati divisi per candidato uninominale e voto di lista collegato al candidato uninominale. infatti la nuova legge prevede che il candidato si può votare sia al candidato uninominale e prende un voto per lui, per il candidato, che ha la lista collegata. i voti di lista collegato al candidato vanno sommati per cui alla fine il candidato prenderà x voti di cui y assegnati solo a lui. per vedere se tutto quadra alla fine bisogna fare il conteggio di tutti i valori affinché tutti i voti assegnati ai candidati che sono praticamente divisi tra quelli presi come uninominale e quelli di lista quindi questi due valori sommati daranno il valore totale dei voti validi che però non sono i voti effettivamente riferiti ai votanti. infatti i votanti sono 32.982 mentre i voti validi sono 32.084 però a questi voti vanno assegnati, vanno calcolati, aggiunti, le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate i due totali daranno da 2.982 schede scrutinate che sono esattamente i 32.982 votanti. ovviamente il dato del proporzionale poi sarà dedotto dal proporzionale sarà calcolato in base alla somma totale dei voti di lista di suddivisi per circoscrizioni quindi non è un dato che può essere calcolato da noi ma verrà calcolato in maniera differente. Il lavoro di comunicazione tra i seggi e l'ufficio CED che prima veniva fatto da quella chiamata staffetta adesso è invece strutturato in un'altra maniera comunque sempre grazie a un lavoro di collaborazione e sintesi dell'attività, ognuno con un ruolo. Beh sì, anche perché il servizio di staffetta nel corso degli anni è scemato tu pensi 80 sezioni dislocate in 25 seggi con 20 persone che fanno questo tipo di attività, tu capisci? Quindi ci siamo dovuti adeguare abbiamo dovuto mettere in piedi tutta una rete di comunicazioni tramite dei servizi cellulari che garantiscono il collegamento col seggio in ogni singolo momento e laddove ci sono delle zone un attimino poco coperte ci siamo attrezzati pure con delle antennine ripetitrici che ci consentono comunque un collegamento costante perdere il collegamento col seggio è drammatico perché tu non hai più il senso dell'andamento del voto e quindi questo genere ritardi è tutto ma queste comunicazioni avvengono tra le sezioni elettorali e il centro di elaborazione dei dati sulla scorta di una modulistica sulla scorta di una modulistica che è predisposta direttamente dalla prefettura sulla scorta di comunicazioni del ministero che vengono elaborate da noi su questa elaborazione vengono fatti poi i software di elaborazione dei dati e di diffusione dell'andamento in riferimento al voto inteso come tale questa attività di predisposizione di questa modulistica che è di un'importanza fondamentale come puoi ben capire è predisposta tutta quanta dalla collega la signora siamo con la signora Marilena Ferrante che si occupa della modulistica insomma un altro step importante per avere il quadro di una situazione in tempo reale per far funzionare il sistema in maniera eccellente esatto io ho predisposto tutta la modulistica per l'attività di rilevazione dei dati che i vari presidenti di seggio hanno comunicato alle mie colleghe successivamente loro hanno passato questi dati ad altre colleghe che le hanno caricate su un sistema predisposto dal collega Cugnini che prima le ha illustrato e questi dati poi sono stati trasmessi a me per caricarli sul sito della prefettura per dare poi i risultati finali la modulistica corrisponde dai dati tutti i dati del comune sul sito della prefettura per i risultati finali e questa modulistica corrisponde è stata predisposta sulla base intanto anche di la distribuzione dei cellulari ai vari presidenti perché anche loro dovevano avere la possibilità di contattare i nostri quattro referenti e poi tutta la modulistica dove i miei colleghi praticamente prendevano tutti i dati trascrivevano i dati che poi venivano comunicati siamo con Feliciano Di Falco sistemista e collaboratore informatico che si è occupato di un aspetto importantissimo quello del sempre per la fluidità di comunicazione tra i seggi e il centro di elaborazione dati e cioè delle sim che ovviamente i presidenti dovevano avere in dotazione per fare in modo che la comunicazione fosse costante per accelerare proprio tutte quante le operazioni sì allora anche quest'anno come per le precedenti tornate elettorali noi come ufficio informatizzazione CED abbiamo curato la raccolta dati provenienti da tutte le sezioni del territorio diciamo che è stata questa un'attività che ci ha visto impegnati a tutto campo in particolar modo già dalle passate settimane abbiamo dovuto predisporre tutto il materiale quindi anche la modulistica da consegnare ai presidenti di seggio tra questo c'era anche l'aspetto delle comunicazioni come abbiamo detto che riguardava appunto questo contatto diretto e in tempo reale appunto per avere poi la possibilità di comunicare agli uffici competenti i dati che noi raccoglievamo attraverso l'ausilio proprio dei presidenti per fare questo abbiamo dovuto in qualche modo gestire la situazione in modo tale da poter fornire loro tutti gli strumenti necessari in particolare abbiamo garantito il servizio tramite la distribuzione delle sim date a ognuno dei presidenti che ci ha permesso appunto in caso non fosse possibile utilizzare i canali tradizionali poter raccogliere il dato comunque in maniera certa abbiamo appunto gestito tutta la raccolta dati fino alla fine dell'operazione di scrutinio e alla fine ci ha visto impegnati in questa attività che è stata sicuramente impegnativa però in qualche modo visto proprio anche le novità che erano state introdotte nell'ultima consultazione elettorale però ecco è stata comunque una soddisfazione abbiamo cercato di gestirlo nel migliore dei modi e qui ci sono due collaboratrici importantissime determinanti sempre nella fluidità nel mantenere fluido l'espletamento di tutte le operazioni del CED anche perché avevano un compito ingrato se così lo possiamo definire comunque pesante comunque di grande attenzione quello di relazionarsi con i seggi ciascuna una parte dei seggi degli 80 seggi disposti sul nostro territorio sì sono due collaboratrici lavoriamo insieme ormai da decenni sono persone di estrema fiducia perché devono svolgere un ruolo importantissimo che è quello di garantire il collegamento tra i seggi e questo ufficio che cosa vuol dire questo aspetto vuol dire che loro devono essere sono responsabili di un certo numero di sezioni e devono fornire al Presidente tutte le risposte di cui il Presidente ha bisogno nella fase di costituzione del seggio durante l'andamento dell'esercizio del voto e poi cosa molto più difficile durante lo spoglio loro ricevono mediamente nella nottata che va dalla chiusura dei seggi per l'esercizio delle attività di spoglio fino alla fine 6-700 telefonate rispondono a tutti quanti i quesiti ma soprattutto iniziano prendono servizio il sabato alle 8 e si alzano dal proprio posto di lavoro quando finisce tutta quanta l'attività a prescindere da quelle che possono essere le ore di straordinario a prescindere da quello che può essere il riposo questo perché avviene questo avviene perché oramai siamo rimasti in pochi non c'è più nessuno che conosce questo tipo di servizio nel pieno perché questo avviene pure avviene perché loro sono con me fanno questo tipo di servizio da sempre e sono persone di estrema fiducia sono tutte pedine che sono state messe lì con un ruolo ben preciso e sono insostituibili allora in questa gestione di comunicazione con i seggi è andato tutto tutto liscio ci sono stati dei problemi o qualcosa qualche curiosità particolare ma i soliti problemi di sempre perché noi abbiamo questo rapporto diretto con i presidenti quindi qualsiasi dubbio che può avere un presidente siamo noi i referenti diciamo siamo questo ponte tra loro noi e con tutto l'apparato diciamo di comunicazione in prefettura quindi diciamo di particolarmente anomalo non è successo niente tranne quei presidenti che magari si sono trovati fino all'ultimo momento con le problematiche di cui le parlava il nostro funzionario quindi fino all'ultimo magari ecco i conti che non ridanno e noi stiamo lì ad aspettare che questi conti quadrano Commissario le operazioni di voto con questa nuova legge elettorale hanno creato diciamo dei problemi in diversi seggi sembra però che a Teramo la situazione sia filata liscia grazie a una buona strutturazione delle operazioni conseguenti beh sì effettivamente siamo molto soddisfatti per l'andamento sia preparatorio che di svolgimento delle operazioni di voto c'è da considerare che la macchina elettorale è fatta di tanti momenti e di tanti interventi quindi c'è stata praticamente un'azione preparatoria in primis della prefettura che come voi sapete cura la stampa e la distribuzione delle schede del materiale ma poi un'organizzazione del comune preceduta da un'attività di formazione e informazione dei presidenti di sezione svolta dal dirigente dal dottor Cugnini che è stata molto utile perché ovviamente la migliore o non soddisfacente riuscita di tutte le operazioni elettorali dipende da come operano le sezioni elettorali le singole sezioni e i singoli presidenti nel nostro caso in più c'è stata una nuova modalità organizzativa per quanto riguardava la raccolta dei dati la trasmissione ma anche la soluzione di tutte le varie problematiche che si potevano porre durante le operazioni di voto che ha avuto il suo clu nella creazione di un centro operativo presso il Parco della Scienza per la prima volta mi dicono i miei collaboratori ubicato in quel sito che ha funzionato molto bene e quindi il risultato anche sotto il profilo della celerità dello scrutinio è stato molto buono grazie a tutti